Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto GPS per auto 7 pollici auto. Audio specifica. Outpower Amp. 4x 45 Watt massimo distorsione del segnale rumore. 55 decibel GPS. Sistema operativo. Microsoft Windows C6.0 Frequenza principale. CRF Alta C4 Software di navigazione e stoccaggio. Supporto SDMMC SDHC Supporto mappa. IGO. Route 66. CIGIC. Garmin. Polnav Supporto audio tipo. WMA9. MP3. WAV Supporto tipo video. WMV. AVI Carta di sostegno. Mini SDTF Radio. AM Frequenza. 522.620. 530.710. 522.621. Sintonizzazione AFM. 87.508. 87.507. 9. 65.0108. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.